Il mestiere dell'astronauta è un mestiere affascinante, un mestiere carico di aspettative in base alla sua esperienza, magari ai giovani che si affacciano verso questo futuro, i consigli, cosa fare, cosa non fare? Beh, è una domanda complessa perché sebbene si parli di fare l'astronauta poi di fatto non c'è una strada che ti porta a diventare astronauta. Sicuramente occorre avere delle conoscenze, oggi se vuoi essere uno astronauta professionista devi avere delle conoscenze tecniche, una laurea tecnica, parlare inglese, queste cose così, ma soprattutto occorre avere la passione. Com'è la Terra vista dallo spazio? Beh, la Terra vista dall'orbita bassa terrestre, cioè quando giri attorno per esempio sulla Stazione Spaziale Internazionale, devo dire che è molto bella perché ti dà questa possibilità di guardarla da 400 chilometri di quota, ti dà la possibilità di vedere un'estensione abbastanza grande, vedi buona parte dell'Europa, tutto un colpo, l'Europa, l'Africa, il Mar Mediterraneo, insomma sono visioni veramente interessanti e importanti che da un lato ti fanno vedere la bellezza di questo pianeta, ma dall'altro ti fanno anche vedere che come razza umana siamo un pochettino dappertutto e cerchiamo di modificare o di cambiare la natura del pianeta secondo quelle che sono le nostre esigenze e quindi, che ne so, incanaliamo i fiumi, facciamo le dighe, costruiamo le autostrade, le città e noi vediamo le nazioni come delle entità diverse, ma di fatto dallo spazio si vede che le nazioni quasi non hanno confini, noi controlliamo questi confini in modo molto attento, ma di fatto c'è un confine unico che si vede dallo spazio ed è l'atmosfera che sta sopra le nostre teste e che ci separa dal vuoto dell'universo, se non ci fosse questa atmosfera non ci saremmo e quindi c'è bisogno di lavorare tutti assieme perché l'atmosfera non conosce differenze tra una nazione e l'altra, bisogna lavorare tutti assieme per fare modo di poter restare su questo pianeta, perché alla fine non è tanto la salvezza del pianeta, noi riusciremo a fare poco nella distruzione del pianeta, non riusciremo probabilmente a distruggerlo, ma riusciremo a distruggere la nostra possibilità di vivere su questo pianeta che per quanto ci riguarda è una cosa estremamente importante.